Stiamo valutando con attenzione i pro e i contro perché diciamo quello che andremo a creare sarà una parte tecnica che dovrà preparare i mondiali. Questo che cosa significa Presidente? Eventura? Possiamo darlo al 50%? Io non voglio fare i nomi, io dico che la persona che secondo me dovrà andare in nazionale dovrà avere esperienza massima e la massima competenza e quindi tutto il resto si vedrà, i nomi sono ristretti a 4 o 5, non è che ce ne sono molti e quindi credo che il tempo, come ripeto, la fretta è una cattiva consigliera, prima di andare all'europeo noi diremo chi sono i responsabili. Presidente, oggi parte ufficialmente la vita. 4 o 5 per la panchina azzurra, sono tutti sullo stesso piano, c'è qualcuno che ha il pole position? Io ho la mia opinione e me la tengo per ora, valuteremo insieme perché io voglio ascoltare non solo la mia testa ma sentirò anche i miei consiglieri.